Un bagno nel mare della costa d'Argento il 2 di ottobre, le temperature record di questo inizio d'autunno fanno ben sperare per un allungamento dell'estate e quindi anche delle presenze nelle località turistiche. Beh, questo non è merito mio, francamente, restando la stagione non vuol finire, abbiamo avuto un settembre veramente buono anche dal punto di vista turistico, l'Argentario viaggia parecchio in funzione del clima, quindi il clima buono porta la gente, in questo momento è un momento di tanti stranieri che trovano qui il mare ancora caldo e viene veramente la voglia di fare il bagno, insomma, nelle ore più assolate siamo in estate piena, insomma, quindi ben vengano questi ultimi turisti anche se per noi il programma è quello che gli ultimi turisti non finiscano mai, cioè vedremo in qualche modo fare questo famoso allungamento della stagione che è una frase sicuramente ripetuta, rivisitata, eccetera, però insomma dobbiamo lavorare in questo senso. Il caldo anomalo di questo inizio ottobre ha fatto registrare nuovi record anche in provincia di Arezzo, abbiamo avuto il record assoluto mensile di caldo provinciale che è stato assegnato da una stazione meteo a Castiglion-Fibocchi, ben 34 gradi, spiega Simone Paolucci dalla chat di Arezzo Meteo.